perché ogni viaggio comincia da vicino perché tutta la nostra vita e quindi tutti i nostri viaggi cominciano dal nostro intimo che cosa significa che la nostra vita è la proiezione sullo schermo che ci sembra esterno a noi del nostro intimo della nostra coscienza delle nostre esigenze evolutive e questo che cosa significa che ognuno è la sua vita quindi tutti i nostri viaggi cominciano ma anche finiscono nel nostro intimo certamente ma lasciano nella coscienza il loro succo evolutivo che è l'unico fine per cui ci incarniamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti